E oggi Radio 2 ci regala un qualcosa di incredibile, perché ci regala Renato Zero! E sempre Radio 2, la nostra radio del cuore, e dopo Madame. Signori e signori, avviva il triangolo! Il triangolo no, non l'avevo considerato, d'accordo ci poterò, la sua lettia non è un reato, garantisci per lui, per questo amore un particolato. Mentre io rischierai, perché mai mi amoro, io lo rispare, perché no! No, è un'altra estate qui, è un'altra volta qui, mi dispiace! Ma che funtana che mai, i miei avventure, che non mirando se, per quegli amori esiste avanti un cuore, spiare!